Cari amiche, cari amici, vota e fai votare per il popolo degli anziani. Avrai così un sindaco che lavorerà al 25% della velocità, ma anche e soprattutto sceglierai così un sindaco per accanirsi contro dei bambini. Con noi avrai così degli anziani nei comuni e nelle province, salvaguardando così il loro posto di lavoro con enormi risorse degli italiani. Abbiamo messo così le mani nelle tasche dei bambini, anche quelli piccoli, una vera e propria missione impossibile. Hai visto come grazie a noi non è solo fallito lo Stato e nonostante il pessimismo e il disfattismo dei bambini, ma anche dei giovani, gli attacchi, gli insulti, le menzogne sui giornali continuano a tappeto. Per queste ragioni, per tutte queste ragioni, vota per il popolo degli anziani e con il tuo voto saremmo tutti meno liberi in appena 5 anni sul piano nazionale.